Prima di apporre una firma grafica con l'app firma digitale Aruba, accertati che nelle impostazioni della firma remota che hai configurato sia abilitata la tipologia di firma PADES. Ti faccio vedere come fare. Avvia l'app, apri il menu Impostazioni e seleziona l'account di firma remota già configurato. Scorri la schermata e per i file PDF abilita le spunte su PADES e firma grafica. Salva la configurazione. A questo punto puoi procedere con la firma del documento. Dal menu in alto, torna in Documenti. Tocca il pulsante più e poi carica file. Seleziona il file PDF che desideri firmare per aprirlo. Tocca l'icona dei tre puntini in corrispondenza del documento. Dal menu che si apre, seleziona Firma. Inserisci il nome utente e la password della firma remota. Guarda, se hai già configurato la tua firma remota, ti basta digitare solo la password. Ok, firma. Qui ti chiede il codice generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP in base al generatore di OTP associato alla tua firma. Se vuoi controllare il codice, tocca l'icona dell'occhio, poi conferma. Perfetto, questa schermata ti conferma la corretta firma del file.